Sold out per tre giorni consecutivi al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con lo spettacolo 2, commedia esilarante che ha visto protagonisti il sex symbol Raul Bova e la simpatica Chiara Francini. Un altro straordinario successo incassato dal massimo teatro messinese, cui fa capo Luciano Fiorino, che insieme al grande Raul Bova si dichiarano davvero soddisfatti per l'ottima riuscita dell'evento. Devo dire che il pubblico è veramente accogliente, qui a Messina il teatro è meraviglioso, ci sono tante persone, quindi è bello sentire che comunque quando si prova a fare qualcosa di diverso, quando si prova a ragionare, a farsi delle domande, a ridere insieme, a sorridere insieme, a prendersi un po' in giro ci sia tutta la complicità e appunto l'accoglienza necessaria per farlo. Noi ci siamo sentiti molto accolti e ti ringrazio personalmente. Sold out per tre giorni consecutivi qui al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, un grande successo possiamo dire. Un grande successo, potrei stare anche un bel po' a parlare di quanto è bello lo spettacolo, di come è bello il testo anche tra l'altro, del quale magari a volte si parla poco ma è un testo che fa divertire e tra l'altro c'è dentro tantissimi messaggi per cui è bello ma poi mi piace parlare anche di Raul e della sua generosità sul palco ma anche fuori, i bagni di folla di Raul e anche gli slanci, gli incontri non solamente con chi lo aspetta per tutta una serata ma anche con chi magari ha qualche problema, un po' più svantaggiato. Raul ha una sensibilità particolare per cui lo ringrazio per essere qui e per la sua generosità. Raul 2, una nuova commedia che ha riscontrato un grande successo. Mi fa ridere perché hai due microfoni, sei proprio in sintonia con lo spettacolo e mi fa piacere perché comunque la gente viene a vedere lo spettacolo e ci si rivede, ride, sorride, ironizza con noi e quindi è una bella complicità, sì. È fondamentale come si è visto anche nella commedia e in un rapporto il sapersi ascoltare. Molte volte c'era la proiezione dell'immagine della donna che vuoi, dell'uomo che vuoi. Eh sì, questo è quello che si mette in scena, si creano dei personaggi ovviamente un po' caratterizzati proprio per dare un po' spazio alla commedia. Sì, diciamo che poi tutte le certezze, le convinzioni e le proiezioni del futuro e tutto quello che ci rende felici e le regole che dicono questo alla fine vengono un po' decriptate, cioè nel senso che poi alla fine non è detto che le regole siano il sinonimo di felicità, ma insomma il fatto di essere felici, realizzare se stessi e poi unirsi con un'altra persona, quello sarebbe l'ideale di felicità, forse. Non lo so. E credo che il motivo per cui questo spettacolo abbia così successo è perché le persone si ritrovano fortemente in un momento insomma che tutti noi attraversiamo lo stare in coppia ed è la storia di questi due giovani, eravamo giovani dieci anni fa ma passamelo, che convivono da sette anni e decidono di andare a sposarsi e questa decisione fa scattare soprattutto nel personaggio femminile di Paola tutta una serie di paure, di incertezze, di fragilità che vengono appunto tessute, vengono colorate, insomma con grande ironia da Luca Miniero. Come ti confronti nel tuo personaggio? Ti assomigli? Beh sicuramente Paola è una donna moderna, una donna come sono io, una donna tradizionale, vuole l'amore, vuole la fedeltà, però è anche una donna molto moderna che lavora, è una donna libera ed è una donna che non ha paura di mostrare quelle che sono le sue fragilità e anche non ha paura di pensare che quelle che sono le sue speranze possano essere disilluse. Senti, oltre al teatro hai altri desideri, altri sogni nel cassetto? Beh adesso sto scrivendo il mio secondo romanzo, si intitola Mia madre non lo deve sapere, è sempre edito da Rizzoli, uscirà l'8 maggio e sicuramente verrò a presentarlo anche qui a Messina e c'è una fiction che deve uscire su Rai 1, non dirlo il mio capo 2 e una trasmissione anche su Sky che credo che uscirà a maggio. Ti aspettiamo presto qui a Messina allora. Assolutamente sì, grazie. Possiamo dire che Messina apprezza molto la cultura? Beh il cartellone che ha firmato sapientemente, anzi hanno firmato sapientemente i due direttori artistici, Simone Aceli per la prosa e Matteo Pappalardo per la musica, riesce a coniugare gli aspetti più divertenti dell'arte ma anche quelli più profondi della cultura, per cui è un cartellone dal mio punto di vista, tra l'altro io dico racconto sempre quando sono arrivato a presidere il teatro l'ho trovato e sono stato contentissimo, per cui l'ho sposato come se fosse quasi il mio, per cui è un cartellone importante, è un cartellone che piace alla gente, è un cartellone che ha registrato subito il piacere della gente con 1900 abbonati, uno sbigliettamento che porta sold out ogni weekend e questo di Chiara e Raul è lo spettacolo tipo probabilmente ma sicuramente uno dei tanti che riesce a riempire la voglia di la sete di cultura e di arte dei nostri cittadini. Lei, Chiara Francini e Paola, segace e un po' nevrotica, lui, Raul Bova e Marco, più realista e pragmatico. Sono una coppia qualunque, in una città qualunque, alle prese con i problemi qualunque della quotidianità. Il loro è un equilibrio consolidato, almeno fino a quando, dopo anni di convivenza, decidono di sposarsi. E durante i preparativi, in particolare durante il montaggio solo apparentemente facile del letto matrimoniale, la loro armonia va in pezzi sotto la spinta di ansie, riflessioni e proiezioni future raccontate con humor in due. Scenografia semplice e insieme monumentale, popolata da sagome statiche che rappresentano le proiezioni degli ipotetici problemi futuri, dai figli agli amanti. Paola e Marco si trovano così alle prese con le mille domande che affollano il tempo che verrà. Il cartellone del Massimo Teatro Cittadino prosegue con altri straordinari appuntamenti consultabili sul sito www.teatrovittoriemanuele.it Il cartellone del Massimo Teatro Cittadino 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 Il cartellone del Massimo Teatro Cittadino